Buonasera. Ciao. Ciao. Ti parlavo in spagnolo per un attimo. Stavo cominciando a parlare. Stavo bene lo stesso, capisco un po'. Judith, raccontaci cosa dobbiamo fare in questa sessione per te oggi. Vai. Allora, io mi sono segnata dai punti, per essere più precisa e non dimenticare niente. E ho dato un titolo ai punti. Primo punto, perdita di memoria, diciamo così. Così sembra spaventoso, ma in realtà ho pochissimi ricordi, soprattutto dell'infanzia. Quello che so, e per quello che mi ricordo, è che la mia infanzia era piena di tensioni. Tutte le persone litigavano intorno a me, non con me, ma intorno a me. E io non ero testimone, piangevo, lo assorbivo, eccetera. E quello che mi raccontavano è che ero una bambina assente, presente assente. Non volevo dare dei baci, guardavo nell'aria, un po' ero assente e ero molto lenta. Poi dopo questa cosa è cambiata, ma i primi, non lo so, otto anni, ero un po' così. E mi ricordo pochissimo, siamo in sei fratelli, e io sono una delle ultime, degli ultimi. Se provo a ricordarmi come erano i miei fratelli da piccoli, quasi niente, o niente, alcuni. Però, quel ricordo che ho che è importante, è che svanisce sempre di più come cresco. Ho dei ricordi, pezzettini di ricordi stranissimi, di momenti di coscienza, presa di coscienza, quando ero piccola, piccolissima forse, in cui capivo chi ero, o che comunque è un risveglio di coscienza, non so come spiegarlo, è una cosa davvero strana, però, ed è una cosa bella, però è misto con una paura. Quindi penso che magari sarà successo qualcosa e io l'ho rimosso, non so come interpretarlo. Ed è misto anche ad un senso di missione e di responsabilità, forse da lì la paura, non lo so. E mi ricordo anche che avevo una grande paura di extraterrestri, angeli, santi, Vergine Maria, eccetera. Quindi io spesso, volentieri, la sera pregavo a Dio che questi esseri non apparissero a me. Quasi come per dire, faccio qualsiasi cosa, ma non voglio vedere nessuno. Infatti non ho mai visto nessuno o non mi ricordo. Questo è il punto uno. Punto due. I titoli sono sempre più brutti di quello che è. Molestie sessuali. Durante tutta la mia vita qui e lì, non nel senso continuativo, ma sempre qui e lì appaiono. Ci ho lavorato tanto, quindi non ti racconterò i casi. Tu parli di molestie sessuali eteriche. No, fisiche. Il primo che mi ricordo ha otto anni, poi dopo ce ne sono vari. Ripeto, ci ho lavorato psicologicamente, li ho integrati, queste esperienze. Però la mia paura è che era successo anche prima qualcosa che io non mi ricordo. E che a livello esoterico vorrei capire se è rimasto qualcosa a causa. Non lo so, se non c'è niente, no. Punto tre. Aborti. Quindi andiamo di male in peggio, non so. Judith, potresti allontanare leggermente il microfono e la bocca verso l'esterno? Perché sento a volte la respirazione. Meglio. Vediamo se è meglio. Comunque, gli aborti. Ho avuto un aborto due anni e mezzo fa, a undici settimane. E un anno e mezzo fa un micro aborto. E lì vorrei capire se ci sono i motivi esoterici e cosa sono. Ti dico che hanno servito. Nel senso, il primo mi ha fatto risvegliare, mi ha fatto capire cosa dovevo cambiare nella mia vita. Stress, lavoro, eccetera. Però non ho cambiato niente. Dopo il secondo ero quasi costretta a cambiare delle cose. Però erano, cioè, successe delle cose un po' strane. Al primo mi hanno fatto il raschiamento in un ospedale. Però io stavo male, avevo i dolori. Sono andata a fare un controllo nel secondo, in un altro ospedale. Mi hanno visitato e hanno visto che c'era qualcosa. Quasi non ci credevano che il raschiamento era già stato fatto. Quindi ero lì, mi hanno fatto aspettare, hanno chiamato l'altro medico, il superiore, che ne so, e mi hanno rifatto il raschiamento. Quindi già lì è strano. Io il secondo, invece, era un micro aborto. Noi provavamo ad avere bambini dopo un anno, figli. Io non sapevo nemmeno di essere incinta. Avevo delle perdite di sangue che continuavano, non so, dopo una settimana sono andata a farmi visitare sempre in ospedale. L'ecografia faceva vedere, cioè, si vedeva una sfera, un grumolo di qualcosa, di grigio. E non sapevano cos'era. E per non dire non sappiamo cos'era, hanno detto micro aborto, però io ho visto che non erano sicuri. La cosa è ancora strana, ma va bene che si è riassorbito da solo. Dopo un mese non c'era più niente. Questo al piano fisico, psicologico. Mi è rimasto come risultato da queste esperienze che non so se voglio figli. Però, ad un certo punto li voglio, poi ad un certo punto non li voglio. Non sto provando ad avere figli, anche perché abbiamo problemi di matrimonio, che poi spiego. Però, è una cosa strana. Poi, subito dopo il primo aborto, ho iniziato ad avere paura dai cani. Ma i cani non mi hanno mai fatto niente. I cani lo sentono, quindi mi abbaiano, quindi ho sempre più paura. Ci provo a lavorarci, però è difficile. Quindi, io non vado, per esempio, al parco dove so che i cani sono liberi, da sola. Allora, la paura di guidare. Lì ci ho lavorato. Nel senso, ho capito che ho la paura anche magari di guidare la mia vita. E adesso guido. Però, se io non so esattamente la strada, non ci vado. Se io non so dove è il parcheggio, non ci vado. E non va bene così. Questa cosa deve cambiare. Punto chiuso. Però, penso che c'entra con l'aborto, a livello psicologico, le paure. Non razionali, non tanto logiche. La paura di guidare è sempre arrivata dopo l'aborto? No, c'era già prima. Quello c'era già prima. Punto quattro. La mia mandibola. Ho dolori quasi continui alla parte destra della mia mandibola. E praticamente, se vado in ospedale, i medici dicono che i dolori non sono abbastanza forti per fare qualsiasi cosa. Se vado dal dentista, mi ha fatto vari esami e diceva che sono messa male, non c'è niente da fare. Mi hanno rovinato irrimediabilmente la mandibola, l'equilibrio dei denti, tutte quelle cose. E mi propone comunque trattamenti di anni e anni che io non voglio fare. E mi spaventa. Allora, così è successo. Circa avevo vent'anni quando mi hanno fatto, mi hanno operato per i denti di giudizio. Sono stati tolti. E per vari motivi hanno rotto qua questo osso, sopra, per poter mandare più su il dente, uno dei denti, per avere spazio per un ponte, non lo so. E hanno messo una placca metallica. Quindi, vabbè, c'è una causa fisica di questo dolore e tutto. Però anche lì una cosa strana, quando hanno dovuto togliere la placca metallica, hanno tagliato, io ero, cioè, ero sveglia. Hanno tagliato, erano in due i medici e mi hanno lasciato lì da sola perché stavano sorridendo, ridendo, perché era così bella la ferita che dovevano fare la foto. Però non avevano la macchina fotografica. Quindi mi hanno lasciato sola e io dicevo, bah, sono qua, con la bocca aperta così, taglio per dei minuti lunghi. Vabbè, è finito lì, ma da allora ho questi dolori. E non so se c'entrano altri problemi fisici perché sembra sinusita che mi torna sempre, mal di testa. Comunque mal di testa sempre meno perché sto lavorando anche su questo, sulla mia salute, movimento, alimentazione, eccetera. Mal di orecchio, facilmente vertigini, che prima non c'era, adesso ultimamente sì, quindi magari peggiora. E' ancora sul piano fisico se, immagino c'entra con lo stress, alcune volte mi sveglio e perdo mezza giornata con stare male. Stare male in tutti i sensi fisicamente, ho la faccia grigia e senso di vomito e passa solo se vomito. Vomito passa, passa. Però è una cosa stranissima, cioè il viaggio di nozze tu stai così, correlato allo stress, penso. E meno da quando ho lasciato il mio lavoro precedente e mi sono dedicata alle mie passioni artistiche. Allora, quinto punto, penultimo. Questa è la cosa più strana perché è più recente. denominato strane connessioni, America, sono stata circa un anno fa in Illinois per alcuni mesi perché mi ero accorta che avevo dei problemi di matrimonio e il risultato era che avevo deciso di trasferirmi lì. Lì stavo insieme ad un ragazzo che si chiama Adam e vicino a lui, con lui, sono successe un sacco di cose strane. La prima è che ero attratta come se fosse un magnete e dovevo andare lì, sia per il posto che per lui. Quindi volevo capire se c'è un legame karmico, c'era qualcosa da risolvere, penso di sì. O se c'era un'interferenza perché penso anche che lui è interferito in un modo, o era, in un modo abbastanza pesante. Io poi ho tagliato i rapporti, quindi non so. E la cosa strana, due ti racconto, uno, attacchi di panico, come se mi soffocasse qualcuno. Lì anche lì ho risolto, ho cambiato abitudini, non bevevo caffè, andavo a correre, uscivo all'aria, però era abbastanza forte e non mi succedeva prima e non mi succedeva dopo. Mi è successo dopo l'aborto una volta, una cosa del genere. L'altra cosa strana che ti racconto, per dirti un esempio, eravamo in una tenda dopo una meditazione e io ho iniziato ad entrare in uno stato immagino di trance e vedere degli spiriti. Tutta la tenda era piena di spiriti, come se tu potessi vedere tutti gli oggetti com'è, oltre il velo, no? E a me piaceva, però sul piano fisico si manifestava come se fossi in uno stato isterico. Infatti lui diceva, si preoccupava, perché piangevo, guardavo qui e lì, e diceva, no, no, tranquillo, dopo passerà. Era come se dovesse attraversare le paure, c'entrava anche lì la paura, tanta paura. Quindi io anche queste cose ci ho lavorato, ho tagliato, ho chiuso, ho allontanato interferenze che sentivo, però vorrei vedere se c'è qualcosa, se loro provano a tornare periodicamente, se c'è qualcosa da fare, magari niente. Sì, e poi una cosa piccolissima strana, c'è un suo zio che sostiene che lui mi conosceva già prima di vedermi lì, e lui non ci crede in vite passate, niente di queste cose, però fin da allora siamo in contatto, una persona molto gentile, protettiva, e dice che mi conosce già. Suo zio? Suo zio, suo zio di Adam. Quindi in America non ci siamo mai visti prima. L'ultimissimo punto, se rimane tempo, non so se è già fin troppo, dare proprio un'occhiata veloce a mio marito William, così nel caso si farà un'altra seduta con lui o con me per lui, se si vuole, se lo vuole, per vedere come sta energeticamente parlando, perché sembra che c'è qualcosa che non va, sembra non essere a lui, sembra bloccato, non gli interessa niente, però secondo me non è lui, cioè c'è qualche problema. E da qui vengono anche i nostri problemi di matrimonio. Sì, e poi vabbè, ancora una piccolissima cosa strana, a volte qua in casa si accendono le luci, da soli, da soli, di notte ci svegliano, ma vabbè, lo spegniamo, ci ridiamo sopra, gli diciamo di andarsene, però, boh, non so. Va bene. Va bene. Vediamo cosa esce fuori, mettiti di comoda, Giuditta, cominciamo. Se vedi dei gatti è normale, dormire su di me, adesso è qua accanto. Va bene così? Sì. Bene. Adesso ti accompagno in una fase di rilassamento. Conto verso il basso, da dieci a uno, e ti rilassi. Dieci. Senti il tuo corpo rilassarsi sempre di più, ad ogni tuo respiro. senti il tuo corpo appesantirsi sempre di più, ad ogni mia parola. nove. Senti questa pesantezza, cominciare dai piedi. e senti i tuoi piedi sprofondare. Senti questa pesantezza, arrivare alle ginocchia, e senti le gambe. pesanti. sette. senti questa pesantezza, arrivare al bacino. e senti le tue gambe sprofondare lentamente. lungite. E senti. Senti. pesante. Da questo momento, qualsiasi rumore o movimento attorno a te ti fa sprofondare di più. Cinque. La tua schiena sprofonda, pesante. Quattro. Il tuo ventre, il tuo petto sprofondano pesanti. Tre. Le spalle sono pesanti. Le braccia pesanti. Le mani pesanti. La testa pesanti. 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 Adesso. Conto da uno a te. Mentre conto, vai ad un ricordo o ad un sogno. Uno. Due. Tre. Pesanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho solo la sensazione che ho le mani grandi. Osserva le tue mani. Dimmi come le vedi. È come se avessi la pelle blu, però non vedo. Mi viene che ho la pelle blu. Osserva il tuo corpo, come lo vedi. Tutto con questa pelle blu e ho anche i piedi più grandi. Adesso esci fuori dal tuo corpo e osservati dall'esterno e dimmi come ti vedi. Ma faccio fatica a capire. Com'è la tua faccia? Allora, prima cosa che mi era venuta, come se avessi qualcosa di giallo gli occhi. Poi, un'immagine tra, ma non ben definita, tra una rana e la spinge. Adesso, osserva il tuo DNA. Dimmi come lo vedi. Mi arriva che è arturiano. Però non riesco a vedere bene la forma. Ci torniamo. Adesso andiamo da un'altra parte. Adesso andiamo alla causa esoterica della tua perdita di memoria. Dove sei? In camera da letto. Nella casa dei miei. Quanti anni hai? Vieno a bevire due. E giorno o notte? Giorno. Con chi sei nella stanza? Non ci sono delle persone, ma c'è qualcuno o qualcosa. Cosa stai facendo? Forse è il momento che bisognava dormire a pomeriggio. Osserva cosa succede e me lo racconti. Vedo solo tipo un'ombra nera in mezzo alla stanza, cioè al centro della stanza. Provo anche a vederlo da fuori, stessa cosa, però è alto, è una figura alta. Continuo. Mi viene da dire che vado a vedere, capire che trafica con i miei organi genitari. Mi viene da un po' di rabbia. Ti viene un po' di rabbia? Sì, ma tanto è inutile. Toccalo. Identificalo. Guardalo in faccia. Dimmi se lo riconosci. Non so, mi venivano varie immagini, occhi rossi, mio papà ama, non lo so. Leggi le informazioni genetiche. Tocca questo essere o questa persona. Dimmi chi. Ma forse tutti e due. Tutti e due chi? Perché vedo questo alieno alto, non lo vedo ben definito, però ho visto questi occhi rossi e la faccia intercambiava con quello di mio papà. Beh. Continua, dimmi cosa succede. Ho sempre la sensazione come se non volessi vedere. Osserva tutto dall'alto, fuori dal tuo corpo. Sì, sì. Sto facendo quello, infatti. Ma niente, forse mi stavo cambiando. Una cosa del genere. Come ti senti? C'è qua un po' di rabbia. Perché rabbia? Perché non dovrebbe toccarmi. Ti sta cambiando il pannolino? Sì. E lo fa toccandoti inutilmente in altra maniera? Sì. E osserva questa rabbia. Come si crea e dove si crea nel tuo corpo? Nella mani. Come le vedi le mani? Le mani sento più grandi. Di che colore le vedi? Nero. Sono le stesse mani che hai visto prima? La sensazione è quella. Adesso osserva quante volte ti sei sentita in questa maniera, in questa situazione. In questa. Mi viene tantissima. Tantissime volte. Non sempre con le stesse persone. Tante volte. E osserva tutte le volte che tipo di sensazione ti hanno lasciato. Sensazione di essere indifesa. Senso di colpa. Vergogna. Rabbia. Possessi per tutte queste emozioni nel tuo corpo. Dimmi come le vedi. Nel loro insieme. A parte che sento tremare, ma come una nuvola grigia, un grumolo enorme e grigio, diciamo, fra le mani e sopra la pancia. Una cosa del genere. Adesso, Judith, prendi tutte queste energie, le prendi, le raccogli e le estrai dal tuo corpo. Allora devo, è anche nel cuore, quindi pensavo di averlo già raccolto. Fallo ovunque veda una di queste energie che non ti piacciono, che ti incomodano. Bene, ma... È strano, ma la rabbia è come se mi piacesse, come se mi appartenesse, perché... È l'unica cosa che potevo fare per reagire, no? Dimmi cosa stai facendo. Ci stavo pensando se farlo o no, se buttarlo via o no, perché... È come se fosse l'unica reazione che resta. Però, sì, lo sto raccogliendo. Estraendo anche da lì. Il resto era già fuori, sopra la pancia. La rabbia può servirti nel momento, ma a distanza di anni non serve più. Sì. Prendila e buttala via, insieme agli altre emozioni. Dimmi cosa fai. Sì, sì, lo sto buttando e facendolo risento ancora di più. Erano abbastanza in profondo. E io li ho rappresti, diciamo. Sì, sì, li ho buttati. Hai buttato tutto? Servono. Sì. Come ti senti adesso? E io? Adesso utilizza le tue frequenze migliori per ripristinare quella zona con altra energia, modulata ad altra frequenza. Sì, ho fatto. Come ti senti adesso? No, no, bene. Osserva le tue mani, come le vedi? Ma la sensazione rimane, quindi forse non dipende da queste cose. Come vedi le mani? Come se fossero più grandi, vibrano. Ok. Spesanti. Adesso lo vedremo. Andiamo alla causa della perdita di memoria. No, mi viene semplicemente che era per non ricordare le cose che ho appena visto. Ottimo. Adesso vai. Gli altri. Dimmi. Sì. Gli altri episodi ero già abbastanza grande per non poter dimenticare del tutto. Potevo solo non pensare. Osserva uno qualsiasi adesso con queste condizioni e dimmi come lo vivi, come lo senti. Tra quegli episodi? Sì. Come se fossero risolte. Sono tranquillo. Sempre trista, ma tranquilla. Se vuoi, vuoi anche prendere questa tristezza e buttarla via. Va bene. Fallo, provaci, dimmi come ti senti. No, no, bene. Fatto? Rigenerata. Sì, sì. Bene. Adesso andiamo alla causa delle tue paure. Le paure. Una in particolare. Paura di guidare. Vai lì. Alla causa. Ma mi viene da dire responsabilità. Come se non volessi avere responsabilità. Vai al momento in cui si è originata. Si è creata questa paura. Vai all'origine. Come se, lo so, avessi fatto male a qualcuno guidando, ma non adesso, ma in questa vita. Dimmi cosa avevi. Ho sensazioni, mi riesco a parlare. La cuore che si stringe, rigidità nel corpo. Stai guidando? No. Sto ripensando a quell'episodio. Quando ho probabilmente guidato, ho fatto male a qualcuno. E nonostante non era colpa mia, mi è rimasta questo senso di colpa. Vai a quel momento e lavoriamo sulla parte emozionale. Come abbiamo fatto poco fa. Vedo una macchina. Sì? Sì, c'è qualcuno che è, come si diceva, investito qualcuno, vola, vetro rotto, come se fosse un ciclista, una cosa così. È questa vita? No, no, no. Come ti senti? No, questa rigidità nel petto, lacrime. Bene. Adesso prendi tutta questa energia creata durante questo incidente. Sono tutte creazioni nostre, tutte frequenze di modulazione. Tutto nostro. Possiamo modificare o eliminare questo trauma. Adesso, per esempio, modifichiamolo. Sì, voglio modificarlo. Non serve a buttarlo. Che frequenza, che numero ti arriva alla mente? Questa energia quanto vibra? Mi veniva su 22 e voglio portarlo a 88. Vai. Fatto. Come ti senti adesso? Allora, bene. Adesso immaginati in auto e dimmi come ti senti, mentre guidi. il pizzico di paura è rimasto. Togliamola. Togliamola. c'è da un imprevisto, lo risolvo in un modo o nell'altro. O sono in piena, non lo so, autonomia, responsabilità. Adesso andiamo dall'altra parte. Sì. Adesso andiamo alla causa della paura dei cani. Dove sei? Ma io continuo a vedere una faccia di gorilla che non mi è sconosciuta. Mi usciva in... Una faccia? Sì, di gorilla. Gorilla? Gorilla. Dove sei? Sono solo che davanti a me sta faccia enorme, con gli occhi che mi puntano in faccia. In quale posto sei? Diciamo che sono in tanti posti perché li ho visti già in tanti posti. Dimmi cosa succede, vai avanti. Mi fisso. Forse hai gli occhi rossi. Vai avanti, avanza, fino a che non succede qualcosa di importante. Ma è come se mi prendesse la gola a stringesse. Infatti sento la gola stringere. Mhm. Ma non saprei perché. Anche cos'è. Sarà qualcosa che mi disturbava in varie... Vari momenti della vita. Come se ci fosse stato già da prima, già da sempre. E agisce attraverso questa paura e toglie il respiro. Continua, vai avanti. E si associa ai cani, questa faccia. Vai al momento dove si è originata questa paura. O al momento dove è nata. Vai indietro. Dove sei? Non so, so che sono da sola. O solo. Da solo? Sei un uomo? Ah, mi veniva a dire da solo, poi mi sono corretta. Ehm... Come se fosse un... Prima era tutto buio, poi... Si è trasformato in un tunnel. Sempre scuro. E io sto camminando. Lo so. Perché... Sì, continua. Che succede? Non so, mi viene l'idea che è tra una vita e l'altra. Sì. Facciamo così. Ci torniamo dopo. Ok. Adesso andiamo alla causa del tuo aborto di 11 settimane. Quando mi dici dove andare mi vengono sempre un sacco di immagini sovrapposte. Scegli una, è uguale. E poi non so più come andare all'origine, come se... No, scegli una. Come se è cancellato. Ci puoi andare da qualsiasi immagine, scegli una soltanto. Ma ho visto l'utero, ho visto il viso del bambino che non è nato. Sì, però che è bene. E poi, non come immagine, non mi veniva da sapere che è stato messo lì qualcosa. Dimmi cosa avevi. Ma mi sembra surreale. Se pensi troppo, riduci questa parte che ci interessa, è la visualizzazione. Sì. Dimmi cosa sei. Comunque, niente, sono in piscina. Uno dei tanti episodi di maltrattamenti o abusi sul piano sessuale. Tu sei incinta? No, no, ero piccola, avevo otto anni. Penso che lì... Continua? Tanto da non raccontarti niente, penso che lì hanno usato quel ragazzo lì e... Non so chi... Che se lo mi racconti quello che vedi, non posso arrivare al punto. Allora... Allora mi vedo da fuori, sono in piscina. dopo il nuoto, l'educazione così, corso di nuoto e... Questo ragazzo che arriva... Ed è successo tante volte, mi tirava giù sotto l'acqua e io non reagivo e... Niente, mi mette il dito nell'ano e poi mi lascia e se ne va. Osserva questa scena energeticamente e dimmi cosa vedi. Ma lo vedo tutto nero, questo ragazzo. Però lui non è cattivo, c'è qualcos'altro. E osserva cosa succede in te in questi momenti. In questi dal presente o in quelli di... In piscina? Sì. Siamo in quella scena. Paura, paura e... E non capisco cosa succede. Osserva nel tuo corpo cosa succede energeticamente. Come se... Grazie a questa cosa che succede una capsula si mettesse nel corpo. Chi te la metti? Quell'energia nera che... In questo momento, mentre tu sopporti questo abuso, come ti senti? Ah, assolutamente indifesa. Osserva questa sensazione. Osserva se a questa frequenza di questa energia si aggancia, si sintonizza qualcosa o qualcuno. Certo, l'energia nera gioca su quello. Bene. Energia nera. Tocca questa energia nera. E ricostruisci la sua forma leggendo la sua informazione genetica. Si è diviso dal ragazzo e... Ripeto, non vedo chiaramente, ma mi è venuto chiaramente rettiliani e... E non essere... Io osserva cosa... Cosa fanno nel tuo corpo quando si agganciano a te? No, adesso mi vedo in laboratorio che mettono dentro quella capsula. Sei in un laboratorio? Sì. Ok. Mentre sei in questo laboratorio, dove è il tuo corpo fisico? Lì in piscina. Però è completamente... è così terrorizzato che... È il momento in cui sei terrorizzata? È questo momento il trauma in cui una parte di te va in quel laboratorio? Si stacca la parte fossa? Sì, sì, è proprio così. Quanto dura sulla Terra questo momento? Cinque secondi. Cinque secondi. Adesso andiamo in quel laboratorio. Dimmi cosa hai detto. E ci sono degli esseri più piccoli, grigi, che trafficano sempre lì, i genitali... Che mettono questa capsula. Ti mettono una capsula. Esattamente dove la installano? È l'utero. Bene. Praticamente... Chiamai il capo. Sì. Il loro capo. È quella... È quella energia nera che poi vedo come... Diggli di prendere forma. Sì, lo vedo come un misto tra... Più grande, tra dinosauro e... Non so, è la parola del Gekko. Qual è il suo nome? Mi dice Gekko. Gekko? Vabbè, sta bene. Mi fa parlare un attimo con lui? Sì, proviamo. Gekko? Sì. Spiegami. A cosa serviva quella capsula? Mi viene rabbia tutto il petto, quindi non... Non voglio farlo passare, non so. Se vuoi... Non vuoi garantizzarlo? Sì. Se vuoi che dico, cosa dice? Poi devi dirmi benissimo di no. Eh, lo so, mi è venuto dopo, no? Ok, non c'è problema. Era graduale. Non glielo chiedere neanche a lui. Assorbi l'informazione dell'ambiente dove sei. L'informazione sta dappertutto. Sì, sì, no, ma... Diciamo che mi arrivavano già prima, dai pezzi. A cosa serviva? Esattamente questa capsula in quella parte della tua zona genitale. E, diciamo, riproduzione, esperimento, quella cosa lì. All'aborto, praticamente, io ho rigettato il bambino, perché c'era questa parte qua dentro di me che interagiva con il feto. Questa capsula è la responsabile dell'aborto? No, non... Ero io che ho preso coscienza, in un modo sotto la coscienza, però che non volevo. Adesso osservati il corpo, però è nel momento attuale da dove stiamo parlando? Non c'è più. Non c'è più. Ero il micro-aborto, che non era micro-aborto, era perché io non lo volevo e l'ho eliminato in questo modo, l'ho disintegrato. Quindi quel micro-aborto era questo impianto che andava via? Sì. D'accordo. Eh, però erano rimasti dei residui. Infatti ogni menstruazione da allora elimino tanto sangue e... Beh, adesso osserva il tuo corpo e dimmi se ci sono altri impianti nel tuo corpo. Ma io al momento vedo il ventre dei figli. Partiamo dalla testa e andiamo verso il basso, in ordine. Cosa vedi nella tua testa? Una nebbiolina grigia. Una lamina grigia in testa? Nebbiolina, nebbia, nebbia grigia. Perché sovrasta il cervello e... Come offusca tutto. Cos'è un'energia, una specie di energia? Sì. Non è tecnologia, è energia, sì. Poi cosa vedi? Collegato ad una cosa piccola, tipo un microchip, che ha una luce rossa. Dove? Alla parte destra. Continua? No, alla parte dietro, cioè perché lo vedevo da un'altra posizione. Proprio tra le due parti dietro e collegata. Cos'altro vedi nella zona testa, faccia, collo? Provo a vedere la mandibola. Però non riesco. Se non vedi niente, dimmi niente. Se non c'è niente, ok. Non c'è niente. Petto. Petto. No, non vedo niente. Ventre? Magari solo l'energia è mia. Sento strabbia da eliminare, però... Dalla petto, ancora, sì. E la parte è la rabbia, vedi degli impianti? Hai detto dei fili, no? No, no, no. Fili pieno, il ventre è pieno di fili. Allora servivano questi fili? Sì. Facevo parte di quell'esperimento. E quali problemi ti hanno dato fino adesso, con la loro presenza? Mi viene a dire vertigini. Debolezza, madrezza, cioè che non riesco a... Aspetta a vertigini, poi? Non riesco a... Ad avere più peso, corporeo, proprio. Debolezza. Quei sensi di vomito probabilmente... Trovavo ad eliminarli. Un mal d'orecchio? No. Sinusite? No. Mal di testa? Sì. Problemi alla mandibola? No, lì non vedo niente. Paura dei cani? Lì mi è venuta una vita passata la mandibola. Allora, ci andiamo. No, vado dai cani... Attacchi di panico? Attacchi di panico. Vedo... Vedo una fascia sul collo, sì. che l'ha causato, che non mi fa respirare. Forse sul collo? Sì. Come un collare. Ah, ecco. È il collegamento con i cani, è questo. Ah, è il collare, ecco. Sì. Mamma mia. Dimmi, dimmi cosa vedi. Andiamoci, dai. Sento, sento che mi dispiace per i cani che hanno disti collari, tutti non possono andare dove vogliono, che non possono mettere qualcosa sul petto che almeno non lo restringe. E il collegamento con il ragazzo in America che aveva questo cane che... L'unica... Era un cane da combattimento grosso, l'unico metodo per fermarlo, ancora sento strabbia. Per fermarlo era quello del collare, di non farlo respirare per due secondi in modo che si calmava. E io ero arrabbiata per il cane. Capivo che era necessario, ma non mi viene da dire la parola. Chi era il gorilla che steggeva sul tuo collo? Eh, a volte mi arrivano le informazioni troppo veloci. Vedo un rettiliano che è in lui, che c'entra. Il gorilla è uno sdoppiamento di sto cane enorme. Va benissimo. Non so. Quando sono stati inseriti questi cavi nel tuo ventre? Sono stati inseriti nel momento della capsula o più o meno in quella... Sì, 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 sì. D'accordo. Allora, adesso dimmi se tutti questi impianti vuoi che vengano rimossi definitivamente. Bene, allora, ognuno che tolga il suo proprio impianto, dia ai responsabili di togliere tutto via e mi racconti quello che vedi. Sì, i grigi stanno già togliendo i fili. Il colo... Il colo mi viene stato il gorilla che... Che in realtà quel... Quell'essere grande che ho visto in laboratorio. Vuole che cambia forma in gorilla perché lui è grosso. Allora il gorilla è grosso e il gorilla è più razionale per me, diciamo. Lui deve togliere questa fascia, ma è un po' arrabbiato. Molto arrabbiato. Però, vabbè, gli rido in faccia, lo deve fare. Perché ho delle difficoltà. Allora, il microchip mi viene i rettiliani e la nebbiolina è un residuo, ma anche una cosa come se mi avessero convinto che era necessario per non ricordare, per non soffrire, non so. Quindi è stata anche la perdita di memoria. Com'è? Era anche la causa della perdita di memoria. Sì, sì. Ho contribuito. Poi? E mi... Mi chiudeva anche la... Diciamo la strada per ricordare che ero prima, perché ero qua, tutte queste cose. Nient'altro. I fili del ventre sono stati tolti? Sono lenti, gli devo dire di finire, perché non... Accelera il tempo, sì? Sì, sì, adesso è a posto. Tolti? Sì. Il collare è stato tolto? Sì. Adesso rimane tutta quella rabbia, se ancora c'è. Sì, sì, nelle mani ancora grandi. Volterà. Sento. Devono tornare normali quelle mani. Eh, lo so. Vai. E rimane tutta quell'energia. No, li voglio trasformare. Oh, trasformano, sì, la stessa cosa. Sì. Adesso riesco anche a muoverli. Muoverli o no? A posto. Come vai a dire rimane adesso? Normali, sono tornati normali. Senti rabbia? Sì, era tutto nella braccia. Senti rabbia? No, sono un po' debole. Beh, ricaricati un po'. Utilizza le frequenze più alte per ricaricarti. Sì. Bene. Adesso osserva Adam e dimmi se l'hai conosciuto in altre vite. Mi viene solo, diciamo, con intensità, questa immagine sdoppiata, come se avessero due teste. Come se fosse due persone in una, un ibrido. Non mi dispiace perché c'è la sua parte buona. Ognuno ha il suo processo. E osserva lo zio di Adam. Dimmi se l'hai conosciuto in altre esistenze. Ma penso di sì. Dimmi quello. Proprio una figura protettiva che era lì per darmi quel minimo di conforto. Non faceva niente di preciso, però se doveva difendermi, mi avrebbe difeso. Adesso andiamo alla causa esoterica, se c'è, dei problemi alla tua mandibola. Vedi qualcosa? Strano perché prima mi veniva niente. però vedo quella placca. Ti sento bene, scusa. Ti veniva? Sì. Sì, prima mi veniva da dirti niente, no? Adesso ho rivisto quei medici, quella placca, quell'operazione inutile. Era inutile. Non so. Quindi la causa... Sì, sì. Sì, sì. Perché a volte mi vengono... A volte non viene niente, a volte è velocissimo tutta le informazioni. Come se fossero stati grigi intorno per controllarmi, ma non la mandibola, è sempre il ventre. Però era una scusa. Allora, ascolta, osserva se durante questa operazione inutile dei dentisti, l'operazione è stata approfittata per intervenire etericamente. Sì, hanno aggiustato tutte le loro... Cosa hanno aggiustato? Fili, magari hanno inserito un'altra capsula. Non c'è più niente di quegli impianti? No, no. Perfetto, stop. Adesso va la causa esoterica, se c'è, della sinusite. Ma tutte quelle cose lì sono semplicemente collegate, sono effetti di quell'intervento ai denti, che era inutile, che ha causato tutti questi problemi, ma non c'è una causa esoterica. Ma ha l'orecchio? Sì, sì. Oh. Vertigini. Ok. Ma di testa. Perci sotto. Bene, adesso vai a quella tenda quando vedevi gli spiriti, hai visto gli spiriti. Ritorna lì. Dimmi perché in quel momento li stai vedendo, che succede? Sono ancora prima io, perché la causa era, se è utile, che con questa meditazione, quel ragazzo, la parte rettiliana o quello che vogliamo, ha ottenuto da me, diciamo, un consenso di... non so come in italiano diventare uno, quando due diventano uno, mer, mergere. Funzioni, funzioni. Una cosa così. Infatti, io ero alla fine straiata su di lui. era un tentativo di... non so cosa voleva fare, comunque, di intervenire su di me, comunque, i rettiliani. e quindi io ho visto questa faccia di gorilla e mi ero spaventata. cioè lì mi sono sproiettata completamente nelle mie paure, però mi sono difesa. E quindi gli spiriti erano semplicemente davvero vedere al di là, vedere che tutto è vita, tutte le increspature della tenda. Dai un'occhiata a tuo marito, William, dimmi come lo vedi esotericamente, o energeticamente. Ah, mi viene difficile a dire, ma... ma con impianti. Impianti? Sì, mi veniva subito quest'idea dai figli, non ho visto ancora bene. E il sistema di impianti che ha, a cosa serve? Per controllarlo. O serve la tua casa? Come vedi la tua casa? Sì, ci sono degli esseri queer lì che, tipo, fa ridere dietro le porte, così, che... Sono umani? No, no, sono... li vedo ancora tipo neri. E per chi sono lì? Per lui. Non per te? Adesso io sono pulita. Ma c'è qualcuno anche per me, ma sono gli arturiani, penso. Dimmi cosa vedi. Vedo questo misto di figure, una figura blu e gli altri, tipo, nascondendosi dietro le porte, ma tanto li vedo. Sono oscure e... E si nascondono? Ma per non essere visti da me. Perché li mando via. Li mando via, perché ci... ci dobbiamo difendere. Però non riesco. Cioè, li mando via e poi loro tornano, poi li mando via. Se sono collegati a tuo marito? Sì, sì, per quello possono tornare quando vogliono. Cioè, dopo un po'. Chi è che ha acceso le luci o spostato qualcosa, non so? Chi ha creato questi effetti strani in casa? Non so. Sì, sono stati loro. E anche di notte mi danno fastidio comunque, attraverso lui. Tu puoi diventare impermeabile, già lo sei con queste cose. Sì, sì. A questo punto, viste le condizioni raggiunte, osserva il tuo futuro prossimo e dimmi come lo vedi. Mio marito? Tu. Io mi vedo tranquilla, non mi possono più toccare. Non possono più farmi paura di notte durante il sogno, mi disturbavano. Hai il desiderio di avere dei figli? Io no. Guarda il tuo futuro. È una scelta, cioè posso scegliere. Loro ci provano, poi io scelgo. Beh. Come ti senti? Bene. Pronta per rientrare? Sì. Benissimo. Adesso mantieni queste condizioni, porta le tue frequenze al tuo valore ideale e rientriamo al presente da dove sto parlando. Conto da uno a cinque, mentre conto rientri al presente. Uno. E il tuo corpo si alleggerisce sempre di più. Ogni parte del tuo corpo si fa sempre più leggera. Senti il tuo corpo fluttuare. Lo senti libero e leggero e la sensazione è stupenda. Due. Sei libera e leggera. Senti questa sensazione di benessere per tutto il corpo. Questa sensazione di pace è tutta intorno a te. Ti senti bene. Sei felice. Tranquilla. Rilassata. Tre. Continua. Rientra. Ricaricati. Quattro. Sei leggera, forte, energica, tranquilla, rilassata. Felice. Forte. Leggera. Cinque. Apri gli occhi. Bene. Come ti senti? No, no, bene. Un po' difficile il rientro, ma va bene. Ero lontano. Rispetto a prima della sessione. Come ti senti? Oh mamma, hai cambiato. Fisicamente? Sì, sì, fisicamente. Ti senti? Ero tutta fredda prima, adesso sentivo tanto calore appena finito. È stato l'animo? No, no, bene. Sono contenta. Va bene. A me non mi resta nient'altro che chiederti se mi pubblica la sessione o no? Dimmi tu. Con viso fuscato e magari non mettere nella descrizione il mio nome o qualcos'altro. Metti qualcos'altro. Ok. Vuoi dire qualcos'altro? No, no, incredibile. Sembrava veloce. Sembravano dieci minuti. Quanto tempo è passato? Sei stata comunque veloce. Anzi, a volte dovevo fermarti. Sì. Perché è stato veloce. Mi ho fatto tutto in un'oretta. Sei andata molto bene. Un'ora? Wow. Un'ora? No, no, mi sembrava dieci minuti davvero. Comunque sei tutti i miei dubbi confermati. Era come se lo sapessi già, ma non potessi ammetterla a me stesso. Cosa del genere. Perché ci ho già lavorato. Vuoi dire qualcosa prima che chiuda la registrazione? No, no, ti ringrazio tanto. Solo questo. Chiudo la registrazione e rimando un attimo in linea. Ciao. Bene. Ciao. 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 Grazie a tutti.